Giorni e dietro, durante i due servizi del nostro telegiornale, ci siamo occupati del porto turistico di Marina di Cara del Sole, a Licata, un vero e proprio punto di arrivo per chi attraversa il Mediterraneo. 1.500 posti barca, servizi di eccellenza, aree commerciali, intrattenimento. Tutto grazie all'impegno e alla costanza di un imprenditore in il seno, Luigi Geraci. Si prova invidia per chi aggela da anni. Oramai si parla di porto, degli interventi da mettere in campo a seguito dell'inserbimento e non accade nulla, mentre a Licata, distante appena 32 km, mezz'ora di strada, è stato compiuto un vero e proprio miracolo. Giorni e dietro, proprio al porto turistico, è giunta un'imbarcazione di quasi 70 metri, un gioiello del mare, che porta ricchezza al territorio. Ignazio Giudice, segretario generale della CGL, in una nota, sottolinea come i ricchi del pianeta Terra continuano a scegliere la Sicilia, la nostra terra un po' bruciata dalla politica e dai delinquenti, ma pur sempre meravigliosa per storia, bellezza, arte e accoglienza. Scelgono, tra le tante mete, il vicino porto di Licata. Contento per Licatesi, meno per il destino che da decenni ha dimenticato Gela, il suo porto, la costa, la sabbia, le bellezze regalate dalla natura e sporcate dalla brutta politica. Un intriso di incapacità, egoismo, insensibilità, inutile chiacchiera a danno dei cittadini gelesi. Non si contano più gli anni e con essi le generazioni che abbiamo sentito parlare del porto, del finanziamento, una volta dalla regione, una volta di Agip o Gieni, una volta di uno facoltoso privato. Nulla, anzi, tanta sabbia, tanta rabbia e indignazione. La politica ha fatto scappare anche i pesci dal porto, oltre che la speranza e i sogni di tanti gelesi. Al porto turistico di Licata arriva pubblicità internazionale, economia per un'intera provincia, tra servizi diretti e indotti e tanto futuro. Penso, chiuso a giudice, che la politica, sarebbe bello un giorno scrivere politica, dovrebbe riflettere, cambiare rotta, fare e parlare meno di firme e finanziamenti in arrivo. Più ne annunciano, più la sabbia diventa alta e estesa. Di turismo si vive, di chiacchiere stiamo per morire.